Sì? Eccellenza, innanzitutto scusi se la disturbo per una testimonianza sua, quindi un messaggio anche di speranza ai fedeli, a quante persone come lei stanno affrontando questa dura prova. Io le chiedo innanzitutto quali sono le sue condizioni e anche in particolare qual è il messaggio per quanti come lei stanno affrontando questa malattia del Covid-19? Le mie condizioni sono miglioramento progressivo, quotidiano, sono qui da otto giorni nel reparto di pneumologia dell'ospedale di Cremona, ben diretto dal dottor Bosio, con grande attenzione da parte di tutto il personale, la terapia farmacologica, ossigeno e monitoraggio continuo rispetto a riappropriarsi professivamente della autonomia respiratoria. Penso di essere abbastanza vicino alla fine del tunnel personalmente, ma si avverte tutto il carico della comunità ospedaliera, il territorio, perché le richieste di aiuto mancano, materiali ci sono, anche il ritmo di servizio a cui soprattutto questi giovani sono chiamati, è impressionante, quindi un messaggio positivo è vedere comunque una generazione di giovani fedici e sanitari deliti con tutto se stessi a questa emergenza. Ecco, in tutta Italia ci sono tante persone che stanno affrontando questa malattia, cosa si sente di dire a chi sta affrontando questo tunnel? Prendiamo sul serio tutto quello che ci viene detto perché non ci sono dietrologie, c'è l'esperienza della nostra fragilità rispetto alla quale la prudenza non è mai troppa. E se questo ci costringe a fare un passo indietro rispetto all'attivismo, alla frenesia, al chiasso, avrà una sua provvidenzialità indubbiamente, quindi non dobbiamo avere paura. A me è capitato che così probabilmente contrarre il virus in piena visita pastorale, quindi nello slancio della dedizione in mezzo alla gente, ai tanziani, e dobbiamo probabilmente anche in questo ricalibrare delle modalità di rapporto che non ci impediscano di essere con la gente, tra la gente, ma anche con tutta l'intelligenza e l'accuratezza che questo richiede. Dunque, ricalibrare le modalità di rapporto, qual è il suo messaggio ai fedeli? Il messaggio ai fedeli sicuramente è riscoprire la presenza del Signore che è molto più potente, fedele e capillare delle forme a cui noi siamo abituati. Certo, la domenica ci dovrebbe vederli uniti, il pensiero corre alla Settimana Santa, alla Pasqua, ma al di là delle forme della tradizione c'è il mistero reale, presente del Cristo incarnato e quindi chi si prende cura dei fratelli è Cristo che si prende cura di Cristo e questo è il vero nome di tutto ciò che accade. E questo ha senso anche all'attesa, alla pazienza, anche al dolore. Quindi la cifra fondamentale è prendersi cura. Quali parole intende rivolgere ai medici, agli infermieri, a tutto il personale sanitario che in questo momento stanno affrontando questa pandemia e si prendono cura delle persone malate? Di grande strada e gratitudine anche per il senso di unità che si percepisce nel Paese, al di là delle diversità regionali, di sensibilità politica, di interpretazioni. È veramente un momento di unità di cui avevamo assoluto bisogno per capire come continuare a costruire nel tempo che ci è dato da vivere le vie per il futuro delle nostre generazioni. Quindi la gratitudine, la stima e anche il serbatoio spirituale che non manca. Devo dire che sapere quanta gente è in preghiera gli uni per gli altri è pieno di consolazione e di pace. Diciamo che in questo momento sta rinnovando l'Italia intera anche il popolo di Dio in un certo senso. Se glielo permettiamo sì, come tutto quello che sempre sfida l'intelligenza e lo spirito degli uomini è una grande opportunità di conversione. Non poteva capitarci una quaresima più perfetta, sotto certi punti di vista. Drammaticamente dura, ma proprio per questo perfetta. Un cammino nel deserto aspettando ovviamente il momento culminante, quello del triduo pasquale. Certo, certo. Poi al di là del calendario quanto coinciderà, sicuramente la gioia dell'esperienza della liberazione non mancherà. La ringrazio moltissimo, un abbraccio forte, un abbraccio virtuale. Grazie, eccellenza, un abbraccio fortissimo.